Non dobbiamo aver paura di dire la verità sulla nostra vita, imparando la saggezza di accusare noi stessi, di dare un nome alla nostra piaga, al nostro peccato. Solo così, con la concretezza della confessione, viene fuori la verità e il Signore ci guarisce con il suo perdono. Lo ha sottolineato Papa Francesco nell'Umeria della Messa del Mattino celebrata a Casa Santa Marta, prendendo spunto dal Vangelo di Luca che descrive il rimorso di coscienza del tetrarca Erode per aver fatto decapitare Giovanni il Battista. «È una grazia sentire che la coscienza ci accusa», ha spiegato il Papa. «Se non sento nulla, segnale rosso, perché nessuno di noi è un santo». Imparare la scienza, la saggezza di accusare se stesso. Io accuso me stesso. Sento il dolore della piaga, faccio del tutto per sapere questo sintomo di dove viene e poi accuso me stesso. Non avere paura dei rimorsi della coscienza. Sono un sintomo di salvezza. Avere paura di coprirle, di truccarle, di dissimularle, di nasconderle. Sì, quello sì. Ma essere chiari. E così il Signore ci guarisce.